Allora, benvenuti nel canale Kanko Kanaiki, amici miei, grazie, come sempre, del sostegno e dell'aiuto che mi date siete fantastici, favolosi, è una comunità stupenda che si sta creando e si è creata attorno al canale quindi posso dire di conoscere tantissimi amici, questa è una bella, bella cosa purtroppo il canale stesso è crescendo, cosa succede? che attiriamo anche molti invidiosi, questo purtroppo è l'unico male che può capitare ma fa parte del gioco, anche l'altro video, l'unico discorso è andato molto molto bene tante visualizzazioni, tanti like, soprattutto tanti commenti e anche tante iscrizioni quindi grazie di cuore, proseguite a fare questo, mettete il like nel video e soprattutto iscrivetevi al canale aiutatemi, aiutateci a farlo crescere così che il messaggio possa essere visto da più persone lo sapete, non tutti sono marzialisti, quindi la maggior parte magari è incuriosita dall'argomento ma se vede pochi iscritti o vede gli altri video, poche visualizzazioni ovviamente non può anche non essere attratta quindi il vostro sostegno è importante per questo, veramente molto importante io invece altresi aiuterò tutti i canali, quelli piccoli, che trattano argomenti buoni dove non c'è il dissing, a parlare di loro stessi quindi io sono il primo a dire organizzatevi e fate le cose e per chi fosse interessato alle attrezzature che utilizziamo qui sotto in descrizione lo trovate su amazon.it slash shop slash kankuka naiki è una pagina, una vetrina che ho aperto affinché potete vedere tutte le attrezzature osservare i prezzi, la qualità, i commenti di amazon eccetera eccetera e per poterla eventualmente prendere lentamente io per esempio tutto quello che ho preso ho preso molto lentamente quindi sappiatelo, l'ho distribuito nell'araco di due anni, qualcosa del genere e comunque avevo molto già da parte bastava anche solo una videocamera e una luce diretta e un buon microfono per partire bene un cellulare per esempio vi chiederò inoltre di aiutarmi iscrivendovi al canale di Sui Sensei la miscellana di Savisi, lo trovate qui sopra e qui sotto in descrizione che è il secondo canale dove io comincerò a mettere tutti quegli argomenti riguardanti il kankuka naiki, la mia vita, la vita di Sui Sensei ma che non riguardano esplicitamente la cultura e le arti marziali come facciamo in questo canale principale quindi vi chiedo la gentilezza di iscrivervi al canale ultima nota, per chi fosse interessato alle nostre magliette lo troverete in descrizione qui sopra e qui sotto lo troverete su T-Spring che è un sito sicurissimo che YouTube accetta perché se no io sappiatelo, ve lo dico da creator su YouTube molti siti non vengono accettati perché ovviamente hanno paura che si portino a siti secondari pericolosi dove può entrarci il virus, quindi se YouTube accetta il link in descrizione sicuramente al 100% avrete la possibilità di avere la sicurezza che quel sito funziona non ci sono problemi, non ci sono virus, quindi è un sito molto sicuro Trio of Life è il gruppo a cui ho chiesto di aiutarmi per distribuire le magliette basta che andate lì, troverete le forme ovviamente vedrete anche come sono fatte dietro o come le misure, le felpe, cose che magari io non ho e che non ne avevo bisogno e che invece li trovate quindi molto molto importante questo detto questo ragazzi allora oggi parliamo di che cosa? parliamo di Bruce Lee ok? ovviamente voi mi direte hai parlato di Steven Seagal? vuoi parlare di Bruce Lee? io vi dico questo ovviamente Bruce Lee è a un livello qui Steven Seagal è a un livello qua cioè non si possono neanche confrontare i due marzialisti ok? questo però vi dico da Aikidoka bisogna ammettere che entrambi hanno fatto i loro errori nella loro vita però questo non è un video di... sulla vita di Bruce Lee troverete tantissimi video da riguardo pensi sulla sua capacità reale marziale dal mio punto di vista di orientale di persona che ci è cresciuta comunque sia penso che tutti noi ci siamo cresciuti ma soprattutto di insegnanti e di arti marziali quindi la mia... fondamentalmente è la mia visione un'opinione opinabile riguardante le sue vere capacità ok? soprattutto comparate con quello che vediamo oggi giorno vi ripeto era un essere umano io non lo idolatro come alcuni fan che lo vedono come se fosse la... ogni volta che vedono un'immagine di Bruce Lee vedono che sembra che stanno toccando la sacra sindone capite? non sia... è esagerato il fanatismo essere... amare l'idea lì la tecnica di qualcuno è giusto per esempio io amo moltissimo quello che è stato lasciato dal fondatore dell'Aikido Moriei Weshiva O-sensei però... però bisogna ammettere che bisogna come storico come essere umano devo prendere atto che O-sensei ha avuto sia i suoi lati positivi che i suoi lati negativi non si può escludere che O-sensei fosse una persona di una destra giapponese che ha fatto tanto tanto male all'Asia tra cui la Corea quindi come coreano no grazie però il messaggio che poi successivamente ha lasciato è un messaggio positivo quindi io tendo ad ammirare O-sensei bisogna sempre vedere i due lati i nyo i nyan un miang cioè il lo yin e lo yang delle cose perché una persona è formata sempre dallo yin e lo yang ricordatevi una frase che dico sempre nei video noi siamo i protagonisti della nostra storia ma siamo gli antagonisti della storia degli altri voi sapete io magari sono il protagonista mentre sto parlando di queste cose di quello che vi sto raccontando per molti frustruoc sono una persona da eliminare e infatti stanno tentando di non rimanere di chiudere il canale quindi sappiate questo chi cerca di chiudere il canale è un frustruoc no a parte questo comunque sia ci sono persone che non piaceremo sempre a tutti questa è l'idea di fondo quindi parliamo di Bruce Lee nella maniera più oggettiva possibile ovviamente di un'opinione mia quindi opinabile e ci vediamo tra qualche secondo benvenuti di nuovo qua amici miei nel canale Kanko Kanaiki ho cambiato un po' di luce perché volevo un pochino le luci un pochino diverse che così facendo capite che quando vedete queste luci diverse dal bianco cioè così spero di ricordarmi e sto parlando dell'argomento sono il vostro amico Songion Devi Cho maestro del Kanko Kanaiki sesto dan di Aikido menkyo okoden di Dai To Ryu ho qualche grado sopra la cintura nera di Judo dal 2014 ho fatto un pochino di box e sono un prepper uno storico un amante degli animali e uno youtuber praticamente sono una persona come tutti voi che ha le sue passioni ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi che sta cercando costantemente di vivere sopravvivere e crescere ok? quello specialmente di crescere perché non si può vivere una vita piatta senza una crescita mentale e fisica ok? e che non sia la crescita di pace comunque sia ragazzi grazie di essere qua perché continuo a parlare della mia titolazione eccetera eccetera se non ci vado molto a caso per coloro che si avvicinano per la prima volta al video e al canale così che sanno che chi sta parlando è una persona come loro che ha avuto un suo percorso e sta condividendo il proprio percorso le proprie idee attraverso YouTube e questo è molto importante ricordatevi in Corea e in Giappone soprattutto in Corea quando ci si presenta si consegna il biglietto da visita affinché un'altra persona si ricordi il nostro nome e abbia i titoli che noi ci portiamo avanti che comunque sia fa parte di noi può piacere o non piacere ma fa parte di noi e a tal proposito perché mi scuso con tutti coloro che non mi ricordo mai i nickname o i nomi perché purtroppo ci sono omonimi e nickname perciò scusate più il gruppo cresce se vi leggo solo una volta può capitare che nei messaggi può capitare che vi chieda di nuovo di scrivervi a tal proposito iscrivetevi però sappiate che i vostri iscritti rimangono quindi meno male mi riesco a ricordare attraverso quello che scrivete il modo di scrivere purtroppo fino a che non ho un viso a cui abbinare il nome può capitare di sbagliare e a volte capita anche che sbaglio abbinando il viso stesso quindi purtroppo la mia memoria è una memoria di tipo selettiva quindi ho questi problemi qua però sappiate che tutti i colori della comunità sono importanti per me non lo dico per dire allora Bruce Lee andiamo sul meat and potatoes sull'argomento Bruce Lee era veramente efficace efficiente era capace di combattere dobbiamo accettare l'idea che come affermano alcuni degli sport da combattimento che dicono ma Bruce Lee non ha mai combattuto in un ring oppure non ha mai fatto uno sparing che fosse tale da fare da combattere dentro poi un cage cioè una gabbia eccetera eccetera allora andiamo passo per passo allora prima di tutto premetto la mia idea così che chi è interessato sa già la mia idea e può può anche io vi dico di continuare a vedere il video però se siete indaffarati sapete già l'idea poi eventualmente lo continuate secondo me Bruce Lee era un genio era un genio una persona che atleticamente si è allenata tanto ma tanto tanto una persona eclettica e qui mi ritrovo molto molti spunti in quello che faceva eclettica che non si è mai fermata a dire io sono Bruce Lee sono tal dei tali quindi ho l'unica verità questo purtroppo è il discorso che fanno i fan Bruce Lee è l'unica verità questo Bruce Lee non l'ha mai detto tantomeno infatti lui stesso diceva io non faccio le forme non insegno un'arte marziale insegno un'idea un concept è questo l'esempio che dovevamo prendere poi non entro nel JQD original o JQD concept quella polemica che c'era tanti anni fa però bisogna ammettere che Bruce Lee non ha mai 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 detto questo non ha mai fatto un dogma cosa che purtroppo i fan fanno questo è un errore grave non tutti per fortuna perché un dannino santo non ha mai fatto questo errore né tanto un Kimura Taki Kimura che è morto qualche mese fa faccia la mia sua non hanno mai pensato a queste cose cioè non è stato mostrato in questa maniera purtroppo alcuni intere in finale vediamo è la stessa cosa di guardare un film assieme ciascuno ha la sua opinione crea da quell'opinione chi più chi meno un qualcosa che poi si portarà agli amici eccetera eccetera e si diffonde questa fa parte della vita però da quello che posso vedere Bruce Lee non ha mai lasciato questo è così e tutti fanno schifo ha praticato molte cose sappiamo che ogni volta che aveva la possibilità imparava da dannino santo le cose dello studio filippino aveva la possibilità di imparare tecniche di judo ci sono ho visto anche foto che poi da storico io dico sempre andiamoci piano piano perché le foto possono essere taroccate lo sappiamo come sono state taroccate le foto di Ueshibo Sensei sul Dai Toryu si possono taroccare anche foto molto vecchie però il discorso è che comunque sappiamo che Bruce Lee era una persona veramente con una mente molto aperta al punto tale che quando incontrò quel praticante il Ji Han Jae che è uno dei più grandi maestri dell'Hapkido coreano da Ji Han Jae volle imparare allenarsi con lui imparare con lui e questo è il messaggio una persona che non si è mai fermata a dire io sono il meglio la mia scuola è unica cosa che purtroppo nel 2021 abbiamo molta gente che fa molta gente vede per esempio tutta questa polemica come vedete nei miei filmati contro le MMA che invece hanno solo da insegnare hanno solo da insegnare tutta questa polemica nei riguardi delle MMA purtroppo sono qualcosa di un vecchio retaggio io sono meglio degli altri questo è grave come del resto non andare quelli là che dicono ai propri allievi non andare al seminario di quella persona perché hanno paura di perderlo oppure non insegno certe cose fuori dal mio dojo perché ho paurato che qualcuno me lo rubi queste sono delle bagianate io rimango perplesso rimango perplesso quando sento vedo queste cose Bruce Lee non aveva questa cosa questa mentalità è una persona che continuava a proporsi allenarsi e è vero non ci sono filmati ufficiali di sparing ma voi credete che una persona che si allena costantemente non abbia uno sparing ma non possiamo basare la nostra realtà solo esclusivamente dalle fonti fotografiche o visuali è vero era un'epoca in cui si poteva registrare ma non è come oggi che metto la Lumix davanti a me clicco prendo la differenza di luci vedo le ISO vedo vedo le ombre sento il sonoro e registro ok anche per registrare oggigiorno ci metto minimo 10 minuti per preparare il setting 10 minuti per vedere cosa voglio registrare eccetera eccetera anche quando registriamo le tecniche per i video di tecniche che vedete qui sopra ogni volta che faccio il video di tecniche cosa faccio vado indietro cerco di vedere cerco di registrare ci mettiamo tanti minuti non è che si registra appena acceso esistono i video live che si accendono e si registrano subito però è una cosa che per esempio come io come videomaker a me non piace preferisco proporre dei video che abbiano senso logico infatti ci sono dei cut quando per esempio qualche secondo fa è suonata l'allarme del mio cellulare non so perché si sia suonato ha suonato e quindi ho dovuto fare il cut è normale quindi in un'epoca in cui il registrare con la videocamera che erano gigantesche molto più grosse di quelle che abbiamo è vero c'erano quelli piccoli da 8 mm in generale le videocamere erano grosse non penso che Bruce Lee ogni volta che andava a insegnare aveva l'idea di registrare io vi posso assicurare non perché io sia come Bruce Lee però vi dico dalla mia esperienza quindi opinione opinabile io a me capita che quando faccio lezioni oppure quando faccio una passaggiata con Studio Sensei non essendo abituato a fare le live con il mio cellulare ovviamente non ho quella capacità di dire ok accendo e parlerò dal cellulare devo prepararmi voglio preferire un setting buono sedermi stare tranquillo e stare davanti alla videocamera non ho la cosa del live registrarmi così ok e quando soprattutto quando faccio lezione devo costringermi provo a sforzarmi a dire ok accendo la videocamera e mi registro se non quella lezione la passo soltanto a fare lezione perché mi piace fare lezione ed è incompatata la terra Bruce Lee quindi non possiamo basare la nostra realtà da quello le fonti come storico vi dico che è sbagliato basare non c'è un video non c'è la cosa però del resto dobbiamo vedere che Bruce Lee non ha mai affrontato certi tornei in Giappone comunque esistevano però dobbiamo comprendere anche storicamente come erano fatti questi tornei non è il 2021 dove cinesi giapponesi viaggiano tranquillamente gli anni 60-70 dove Bruce Lee cresce si fa un nome erano anni molto difficili soprattutto Bruce Lee è morto presto è morto molto presto all'inizio degli anni 70 quindi non si era neanche sviluppato quell'idea ok i paesi la Corea era sotto una dittatura per esempio ricordiamoci la Corea la Corea del Sud che oggi è patria della grande democrazia una patria dove veramente riusciamo a cacciare via anche i presidenti il personaggio più importante dello Stato riusciamo a cacciare via per impeachment perché rubano i soldi un paese come questo negli anni 70 era ancora sotto il dittatore quindi immaginiamo la difficoltà che un Bruce Lee poteva avere per andare a fare questi benedetti tornei e non c'era ancora l'UFC non c'era l'MMA i tornei di MMA esistono quelli di kickboxing in Thailandia si si poteva andare in Thailandia però anche lì c'erano delle regole non è che lui poteva rischiare la sua vita e qui non lo sto giustificando non affatto però dobbiamo capire che lui è un attore il suo lavoro dove mangiava principalmente era l'attore prima insegnato era negli Stati Uniti bloccato negli Stati Uniti c'erano i tornei americani però tranne una volta che raggiungi una certa notorietà entra in gioco quello che avviene capito il marketing non è che puoi venderti come se avessi 20 anni non ci sono problemi come se a uno di 13-14 anni oh non ci sono problemi vado a combattere le persone di 13-14 anni si stanno creando la loro vita quindi la vita è far premata sconfitte e vittorie ma quando ti fai un marketing e porti la pagnotta e ribadisco la pagnotta l'unico oggetto della tua vita a casa attraverso quello non è che vai lì e magari puoi accettare la sconfitte non c'era ancora il concept di oggigiorno doveva comprendere che Bruce Lee cresce in un contesto in cui il maestro era invincibile questo è quello che poi è successo anche lui che non voleva questa cosa oggi giorno tutti quanti dicono era imbattibile pensate un po' quando viveva in un periodo in cui non c'era ancora l'idea che avevano passato i brasiliani i judoka ma anche tra i judoka i grandi maestri di judo non si fanno toccare vogliamo capirlo e qui se parliamo del 2021 i grandi maestri di judo non è a livello di un Putin che per esempio quando mostra le tecniche di judo gli altri hanno paura di fare qualcosa a Putin non a quei livelli però se stai praticando con nonodan cerchi di subire la tecnica del nonodan non è che stai facendo cerchi di fargli resistenza capite? questa è una sciocchezza cioè è l'unico momento in cui cerchi di comprendere come sensazione di uke la tecnica che stai subendo per esempio io ho subito un araigoshi da un settimo dan e vi posso assicurare che è qualcosa di spaventoso non ho cercato di resistere volevo capire attraverso il mio corpo cosa stava succedendo ed è giusto che sia così Bruce Lee in un contesto come quello non poteva dire oh ragazzi vado a fare il turno sul libro però perché il suo mestiere non era quello lui doveva intanto insegnare a quelli che gli americani che si erano avvicinati a lui era diventato un attore si stava creando una figura e ha dovuto mantenere quella figura quindi che non abbia partecipato ai tornei è normale fa parte della vita dobbiamo comprendere questa cosa io personalmente mi ricordo un grande praticante di Brazilian Jiu Jitsu uno dei primi qui in Italia che tutti lo conosceranno il mio amico Claudio A che è un grande praticante di arti marziali filippine che saluto ora di Caserta prima di Napoli ma di Caserta anche lui lo conoscete perché è un nome Claudio A si ricorderà della stessa persona della stessa persona di Roma che fa Brazilian Jiu Jitsu una persona veramente un signore un signore allora questa persona che non cito non cito i nomi i cognomi perché ovviamente non le è permessi ragazzi ok allora questa persona ovviamente discrisse una volta su un forum sul forum arti marziali questa frase ok dato che c'erano i cosiddetti troll che continuavano a rompere le scatole i frustruocchi i soliti frustruocchi lui diceva ok io partecipo però voglio un budget di 10.000 euro si parlava già degli euro negli anni all'inizio del 2000 voglio 10.000 euro per poter partecipare e poi vince mi vuoi fare quello che vuoi però intanto mi dai 10.000 euro perché sono un professionista e una persona come lui che comunque sia all'epoca era il top probabilmente anche adesso è il top del Brazilian Giugnistice in Italia una persona del genere ovviamente parla per il suo marketing allora ha torto? assolutamente no ha ragione idem con patate se una persona viene nel mio dojo e mi dice oh voglio ospidarti perché sei noto nella comunità come youtuber eccetera eccetera io non sono come si chiama quel tizio che sta per affrontare Floyd Mayweather che ha milioni di visualizzazioni però comunque sia sono una persona nota e so che tanta gente vorrebbe farmi il pelo lo so i frusturoca parlano di persone che volevano spedirmi col treno io abito in Sardegna e volevano spedirmelo col treno ok perciò frusturoca rimani frusturoca anche ignorante capito? c'è il mare in Sardegna c'è il mare non si prende il treno si prende l'aereo comunque in generale in generale in un contesto come quello noi cioè se qualcuno viene io dico scusa devo mettere la bilancia vuoi farti un nome facendo uno sperri un combattimento eccetera eccetera ok allora anch'io direi dammi un compenso perché ovviamente non è per essere lucrosi ma è per il concept non è che possiamo ah io a 45 anni devo stare dietro ho un fanatico un matto psicopatico che vuole che vuole subito oh ti faccio vedere io quanto sono bello e forte comprendete queste cose non si possono fare noi siamo persone adulte per chi è adulto persone che stanno diventando adulti per chi sta diventando adulto quindi in generale ci sono delle cose che bisogna mettere in chiaro un brusci non poteva farlo né tantomeno quel mio amico che sta lì o per esempio Rocas cercava di organizzare questo combattimento tra me e lui anche gli ho detto sapendo che era questo il suo punto debole gli disse allora combattiamo io a te Rocas io vado a combattere con quello tanto non ci sono problemi se mi sconfiggi ah men fa parte della vita la vita è sconfitta perché io comunque se sono un signor nessuno però tu Rocas se hai centomila tassa iscritti combattiamo io a te ha avuto paura perché ovviamente quando ci sta un combattimento non ha paura del suo corpo ha avuto paura paura e io ho le prove su facebook non è che è stato cancellato ce l'ho tutte ha avuto paura il carissimo Rocas perché aveva paura di farsi fare una brutta figura e io mettessi il video online ok quindi questo purtroppo fa parte ha sbagliato aver paura no perché con quello lui ci vive perciò io rispetto questa cosa ovviamente il suo intento di fare video a mio discapito era un grave errore grave errore perché vuol dire un egoismo che è grosso quanto una casa quindi tornando a noi Bruce Lee non compare nei tornei ok va bene va bene questo non va a inficere non va a intaccare le qualità tecniche di Bruce Lee di Lee Soo Ryong Lee Soo Ryong si non va a intaccare anzi a parte il fatto che poi ribadiamo anche questo ribadisco questa idea ci sono molte persone che magari in un momento nelle arti ma se parliamo di calcio che tutti quanti viene un male ama a mate io a me non piace so che molti non gli piace però in generale a chi lo ama saprà identificare nel calcio Morigno non è stato un grande calciatore come Ronaldo però come allenatore nessuno può dir nulla capite il senso stessa cosa ora andiamo nella box Kusdamato non è Tyson ma Kusdamato è Kusdamato capite quindi tornando a noi può capitare che ci sia una persona che tecnicamente magari non era forte fisicamente non era bravo a combattere ma è un bravissimo insegnante come del resto noi abbiamo campioni di karate di judo o di le arti marziali che volete che come insegnanti sono pessimi sono pessimi il Bruce Lee non ha queste fonti non ci sono non ha vinto tornei non ha fatto quello io ripeto ciascuno ha il suo percorso questo non va in feature nella sua capacità ovvio come ha fatto il video e ve lo consiglio di andare a guardare Bruce Lee contro Tyson è un video ipotetico ironico divertente e ovviamente lì ribadisco il fatto che un Tyson comunque sia ha un maggiore peso era più allenato a fare certe cose combattere e quindi probabilmente avrebbe falciato Bruce Lee questo si ma lo avrebbe detto anche Bruce Lee non era una persona stupida era una persona molto intelligente molto molto smart molto 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 capace che sarebbe stato adeguato anche ai giorni nostri Bruce Lee avrebbe fatto il combattimento su su contro i quelli di Brazilian io vi dico questo vi ho detto è sempre un marketing non può rovinare il suo unico introito quello importante per andare a fare quello Chuck Norris l'ha potuto fare ma Chuck Norris era già famoso era già famoso prima di cominciare a fare Brazilian Jiu Jitsu e poi lui decise di mettere il video online quando era già quasi cintura nera di Brazilian comprendete per dire guardate ragazzi io ho fatto questo e Chuck Norris è una persona straordinariamente intelligente ma non si può fare questo Bruce Lee non era così Bruce Lee non era un arrogante nei film mostra un certo spirito perché doveva attirare come un clickbait doveva attirare i cinesi per farlo guardare perché il mercato cinese era forte da lì mostrare negli Stati Uniti e probabilmente avrebbe proseguito però è in dubbio che lui avesse per esempio Taki Kimura è in dubbio che avesse amici giapponesi è in dubbio che avesse amici coreani è in dubbio che ammirasse le arti mazzali in toto ok era forte? probabilmente sì oggi è una giornata in cui mi cadono tutte le cose comunque sia era forte sicuramente era forte ma soprattutto era una persona con dei valori dell'intelligente si allenava assiduamente fisicamente al punto tale che secondo me questo allenamento troppo eccessivo l'ha portato alla morte però effettivamente si allenava costantemente poi lavorava al punto tale che nelle sue biografie noi vediamo che lui si sente anche in colpa nei riguardi della propria famiglia perché non non ha il tempo da spendere con loro ok come invece avrebbe voluto perché era sempre impegnato a fare film a organizzare a fare sceneggiatura incontrare la gente perché non è che il film si fa ok lo facciamo perché lui voleva essere anche produrre se stesso ovvio io come lo dico come attore faccia schifo diciamoci non si può guardare anche lui come attori non vanno bene però Bruce Lee quando si metteva nel ruolo del combattimento aveva uno sguardo un portamento un carisma che pochi altri hanno mai più avuto ok pochi altri hanno mai più avuto come lui e tutti si ricordano grazie a lui se le arti marziani hanno avuto questo boom nel mondo e grazie a lui se molte cose sono cambiate sono cambiate perché lui si è messo in prima linea e di questo dobbiamo essere grati e dobbiamo dare il merito dobbiamo dare il merito a una persona che si è allenata costantemente per poter portare un buon messaggio non era una persona che si è lasciato andare poi se qualcuno dice è morto per una droga è morto per una cosa però bisognerebbe come storico andare a vedere analizzare ma non c'entro dentro io vi posso assicurare che come messaggio lui ha cercato di dare di dire dovete stare in forma dovete allenarvi dovete fare le cose e dovete rispettare tutti perché io nel mio stile ho cercato di apprendere più cose possibili è questo di non essere fermi in un coso poi c'è l'aneddoto che lui abbia dato uno schiaffo a un maestro di Tai Chi che si era messo in una posizione ferma ferma quello è un aneddoto qualcuno l'ha visto quel video? l'ha visto quella cosa? io personalmente non l'ho visto è soltanto una cosa che un reporter americano ha riportato da un sentito dire che è stato fatto a Hong Kong fin tanto che non vediamo il filmato originale personalmente andiamoci con le pinze è una persona che rispettava tantissimo ed è stata anche maltrattata dalla comunità orientale perché ovviamente lui era la diversità cerca di portare una diversità efficace sicuramente quello che ha insegnato aveva un senso logico e quindi vuol dire che era più vicino all'efficace efficiente piuttosto che un qualcosa che viene fatto perché lui ovviamente viene dagli stili cinesi noi sappiamo che in molti stili cinesi in cui c'è la facciamo conto la posizione della tigre che dorme mentre per riportarlo nel contesto di combattimento puro semplice dalla forma adulcorata che nascondeva attraverso una danza attraverso una forma figurativa la tecnica marziale quello che mostra il blu st è subito marziale cioè subito in azione quindi ovviamente come consta è più vicino a un a un muay thai è più vicino a un al brasilian da un certo punto di vista perché è più vicino è escluso tutto quel contesto che per esempio anche nell'aikido l'aikido prima di arrivare a dire è una cosa che funziona bisogna togliere tutta la spiritualità tutto il movimento armonioso eccetera eccetera che appartiene eccetera non entriamo nell'argomento ok quindi blu st era una persona che voleva subito portare l'efficienza quello sicuramente lui fosse un grande praticante sicuro fosse il campione del mondo no perché non ha partecipato perché ribadisco lui aveva bisogno di mantenere la sua figura per fare in modo che le persone si avvicinassero a lui lui portava dava da mangiare alla famiglia poi diventava famoso cominciava a avere ville eccetera eccetera comunque sia dava da mangiare alla propria famiglia grazie a questo ok poi il film di Tarantino lo faccia vedere come uno sbruffone eccetera eccetera secondo me hanno sbagliato quella è una scena sbagliata quella scena è più adatta concettualmente a Steven Seagal che faceva lo sbruffone con quelli dei stuntmen Bruce Lee comunque era una persona che cercava di insegnare altre cose non era uno che stava lì a fare la casa può capitare che magari uno ti aggredisce verbalmente lo splendido e tu devi fare qualcosa e lì dipende dalla fonte storica che rimane purtroppo quando una persona è morta la fonte storica è fino al momento in cui è viva non abbiamo ulteriori fonti non può difendersi da un argomento che è stato fatto quindi secondo me Tarantino è un po' esagerato su quello però tornando a noi Bruce Lee era un uomo un uomo vero che ha cercato di mostrare le cose più vere possibili e non possiamo dire chi dice Bruce Lee era però questo è l'errore il fan che dice Bruce Lee era invincibile era il più potente del mondo il primo che ha fatto l'MMA eccetera eccetera no le MMA hanno un loro concept hanno una loro storia Bruce Lee è stata una persona che ha cercato di aprire la mente su tutte le arti marziali sicuro ma l'MMA non si può dire che Bruce Lee è il padre dell'MMA anche se si avvicina si avvicina molto neanche Antonio Inocchi che ha creato un multistile al di fuori del wrestling che faceva può essere il padre dell'MMA l'MMA ha fatto la sua storia e nella sua storia ha creato attraverso l'UFC questa grande struttura però che Bruce Lee fosse una divinità imbattibile non è vero lui stesso lo sapeva lui stesso lo sapeva e non si è mai posto questo dobbiamo togliere l'idea di Bruce Lee del film con il Bruce Lee reale questo è l'errore che si fa spesso il personaggio è un conto la persona è un'altra capisco l'amore che i fan hanno per Bruce Lee ma non si può dire che Bruce Lee era Dio questo è sbagliato lui non l'avrebbe secondo me non l'avrebbe accettato lui era una persona che doveva comunque sia mostrare una certa qualità una certa prestanza una certa stabilità anche all'epoca anni 60-70 doveva mostrarsi maestro e il maestro nel 2021 ci sono quelli là che devono mostrarsi imbattibili quindi non è che cioè però Bruce Lee non era un frustroco con questi qua che abbiamo oggi capito quindi tornando a noi tornando a noi era una persona che sapeva fare le cose perché si vede al suo allenamento al suo corpo da come ci tenesse e quindi era una persona che ha cercato di trasmettere più cose possibili ovvio poi che abbia avuto la capacità o non dipende da quello che poi abbiamo oggigiorno io personalmente parlando vedo Danino Santo e Danino Santo ha creato tanti tanti grandi esperti quindi diciamo che se seguiamo il film di Danino Santo si Bruce Lee ha fatto questo ha dato un messaggio ed è stato efficiente in questo quindi spero che il video vi piaccia spero che i fan di Bruce Lee non se la prendano a male per la mia opinione opinabile e grazie del tempo che mi avete dedicato è stata una giornata stata perché tutte le cose tra l'armi le cose che cadono è stata un po' particolare aiutatemi ancora iscrivendovi al canale mio e quello di Susan Sey la miscena di Savitri che trovate nelle due descrizioni perché è importante ragazzi è importante perché ora siamo vicino ai 5.000 amici iscritti e sapete che ci tengo mettete i like nel video e nei video questa è un'altra cosa che vi chiedo veramente col cuore perché i like mi permettono di capire che chi è iscritto ha visto il video e so che ci siete poi ovviamente se mi messaggiate mi rendete ancora più felice perché il messaggio è per un contatto diretto e sono lieto e grato che non ho bisogno di cancellare messaggi perché non ci sono quelli che offendono quindi grazie di cuore ci vediamo buon weekend e ci vediamo la prossima settimana Don't worry that's what's up